Le tensioni in Medio Oriente innervosiscono i mercati, ma in Italia Giorgetti fa peggio. Buongiorno a tutti da MacTrader, vi ringraziamo fin d'ora per il like che vorrete lasciare a questa nostra analisi, vi invitiamo ad iscrivervi e ad abbonarvi al nostro canale YouTube affinché non possiate perdere alcuno dei video che andremo a postare di giorno in giorno. Le continue provocazioni in Medio Oriente stanno innervosendo i mercati e soprattutto il retail a questo punto tende ad uscire per salvare il piccolo patrimonio che usa per il proprio trading, in quanto oramai qualsiasi analisi pare essere confutata dall'oggi al domani. L'ultimo esempio l'abbiamo eletto nella nostra chat del MacTrader Caffè dove era stata fatta un'analisi da un nostro lettore e che è stato poi praticamente sbugiardato il giorno dopo dal risultato del mercato. Come dice un nostro collega, quando ci sono questo tipo di giornate nervosi, le cosiddette mani forti o gli squali se preferite un'immagine alla Gordon Gekko amplificano i movimenti grazie alla profondità delle loro tasche e tutto questo con l'unico scopo di far saltare gli stop, buttare fuori dal mercato il retail o le acciughine se vogliamo proseguire nell'esempio di qui sopra e poi accumulare posizioni che in breve tempo torneranno a livelli superiori. Se poi andiamo a guardare con attenzione i grafici ci accorgeremo che questa settimana i volumi sono stati inferiori a quelli della scorsa ottava e questo a dimostrare che poi alla fine qualcuno non si è prestato a questo giochetto e ha mantenuto i nervi saldi in attesa di una soluzione diplomatica sia in Medio Oriente che sul fronte dell'est europeo. Diversa la situazione a Milano dove invece i volumi sono aumentati e di molto ma ne parleremo più tardi quando analizzeremo il Fuzzimib. In ogni caso in Europa si soffre decisamente più di Wall Street che eppure è stata investita da alcune notizie negative. L'ultima in ordine di tempo è quella di un attacco hacker da parte di un gruppo riconducibile direttamente al governo cinese che avrebbe fatto breccia nei sistemi di Verizon, Bradcom e altre aziende americane raccogliendo dati per un discreto lasso di tempo prima di essere individuati. Tutto questo mentre negli Stati Uniti sono nel pieno della campagna elettorale presidenziale con i due sfidanti che sono sempre molto vicini nei sondaggi. I forti dati del lavoro usciti venerdì hanno portato molte case d'affari a dichiarare che non ci sarà un nuovo taglio da 50 punti base nella prossima riunione della Fed. Ci teniamo a precisare che la nostra view, espressa più volte e anche da tempo, sia sempre stata per una sorta di tregua elettorale e che Powell abbia usato nella scorsa riunione con il taglio da 50 punti per finire l'anno con due tagli da 25, evitando così di creare difficoltà ai due sfidanti. Non è il dato di venerdì che impedirà un secondo taglio da 50 punti base. È stata una roadmap già tracciata da settimana e i dati usciti non hanno fatto altro che confermare la bontà di questa visione della Fed. Andiamo a vedere cosa è accaduto in settimana. A settimana numero 40 vedete il meno 3,26 di piazza affari, il meno l'1,8 del DAX. Sono stati sostanzialmente flat i listini di Wall Street. Partiamo quindi a vedere quello che è accaduto sui mercati. Iniziamo come sempre dal listino di piazza affari, seduta decisamente negativa, abbiamo detto meno 3%, volumi in netto incremento e sopra la media, del resto le parole del Ministro Giorgetti quando ha parlato di sacrificio per tutti chiaramente ha lasciato il segno. Vedete abbiamo perso e anche male il breakout della rialzista della scorsa settimana. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno possiamo dire che il supporto dei 33 mila alla fine ha tenuto, che il rimbalzo che vediamo dal minimo di 33,128 alla chiusura di quasi 33,6 è dovuto alla reazione che vi è stata nella seduta di venerdì alle parole sia di Salvini che di Tagliani che hanno replicato che questo governo non alzerà le tasse in alcun modo per i cittadini. Vedremo nella prossima ottava se questa è stata una reazione di pancia alle parole dei due politici o se invece effettivamente sia all'inizio di una fase di recupero perché saranno poi magari rimodulate le parole del Ministro Giorgetti e come al solito magari diranno che sono state male interpretate dal mercato. È chiaro che a questo punto sarà importante vedere se nel caso peggiore terranno i 33 mila punti che restano il primo livello di supporto o a quel punto nel caso di un veloce recupero andare a vedere come si comporterà con la resistenza dinamica con la ribassista 34,167 che sarebbe il nuovo ostacolo per il nuovo breakout appunto della ribassista. E tutto questo lo vedremo nella prossima settimana speriamo. Per guardare invece al DAX, il DAX che scorsa settimana come vedete aveva registrato il nuovo massimo storico appena sotto i 19.500 punti, anche il DAX torna immediatamente sotto il livello della rialzista, ma come vedete lo fa con volumi in calo sotto la media e soprattutto vi è stata anche qui una piccola reazione, una piccola lower shot, ma in ogni caso la chiusura rimane nella mezzeria superiore della candela precedente, mentre a Piazza Affari abbiamo visto che le cose erano andate abbastanza in maniera diversa. Il DAX comunque continua a rimanere molto vicino al suo massimo storico, anche se in Germania continuano a esserci notizie negative per la crescita, sempre per le parole del Presidente dell'IFO e prosegue anche il braccio di ferro tra la Germania che non vuole cedere Commerce Bank alla scalata di Unicredit e desponenti tedeschi ed anche europei che pur senza parlare espressamente del fatto Unicredit-Commerce Bank si sono però espressi a favore di una concentrazione bancaria che permetta di poter sostenere con efficacia sia la ripresa economica, ma anche di poter fronteggiare senza troppe differenze di valori legacy capitalizzazioni contro le banche d'oltreoceano, soprattutto le banche americane. Berlino sta cercando di alzare un muro a difesa della Commerce Bank e probabilmente però poi alla fine dovrà cedere, viste le pressioni interne ed esterne e a quel punto andrà a rischio anche la tenuta del cosiddetto governo semaforo. Prima resistenza per il DAX a questo punto sono i 19.412 punti, primo supporto a questo punto diciamo il livello dei 19.000 punti e a seguire il supporto più importante in area 18.000 punti. È chiaro che se verrà rotta a rialzo nuovamente la rialzista 19.412, a quel punto è molto probabile che il DAX andrà a registrare un nuovo massimo storico sopra i 19.500 punti. Settimana sostanzialmente invariata per Wall Street, abbiamo visto chiusure frazionalmente positive con l'attuale Presidente Biden che ricorda ad Israele che la sua amministrazione è stata quella che più di tutte ha aiutato lo Stato ebraico e che quindi Israele dovrebbe anche accettare da parte di Biden l'invito a non proseguire con gli attacchi a tutto tondo. Il rischio maggiore che temono gli USA è che dopo gli attacchi in Libano possano ripartire le rappresaglie verso l'Iran e ciò potrebbe diventare deleterio non solo per la regione ma per l'intero pianeta. Prosegue intanto serrata la campagna elettorale tra Harris e Trump, dopo l'incontro poco scontro tra i loro vice designati, l'elezione sarà probabilmente decisa da un pugno di voti e così gli sfidanti stanno continuando a volare da un capo all'altro della nazione per cercare di raccogliere ogni voto possibile. Andiamo a vedere cosa è accaduto sul Dow Jones. Dow Jones come vedete ha aperto in corrispondenza della chiusura della scorsa settimana, chiusura che era stata sotto una upper shadow che quindi lasciava presagire la possibilità di un eventuale discesa. In ogni caso discesa c'è stata, siamo andati leggermente sotto i minimi della scorsa ottava ma poi Dow Jones ha invertito, ha recuperato ed ha chiuso frazionalmente positivo. I volumi però come vedete sono stati nettamente sotto la media e nettamente inferiori alla scorsa ottava. A questo punto vedremo per la prossima settimana come si comporterà. In ogni caso la candela lasciata sul grafico con questa lunga lower shadow sembrerebbe dire signori i 42 mila punti per il momento non sono assolutamente in pericolo, anzi è più probabile che si vedrà un nuovo massimo storico piuttosto che un ritorno in area 42 mila o a seguire a scendere in area 41 mila e 5 come supporto secondario. Candela similare anche per il Nasdaq, anche qui sostanzialmente la dinamica è stata la stessa con la cosa interessante che sostanzialmente il minimo è andato a toccare l'area alzista come vedete e da qui poi come se avesse preso la scossa ha recuperato. Anche qui volumi indeciso calo, si sono allontanati discretamente dalla media giornaliera e in ogni caso molto interessante vedere sia la lunga lower shadow sia il preciso test della rialzista. A questo punto il primo supporto per la prossima settimana i 19, 6 e 14 della rialzista e invece la resistenza è chiaramente l'area di massimo della scorsa settimana in area 19 mila e 20 mila e 300 punti circa. Superati quelli poi diventerebbe molto vicino anche il ritorno in area massimi storici. Chiudiamo infine la nostra analisi con SP500 che si è dimostrato nuovamente il listino più forte e quello che sta guadagnando di più da inizio anno sta appena sopra il 20%, volumi anche qui in calo ma non così tanto, sta sotto la media ma non così tanto e quindi diciamo che rimane il listino principe da guardare per avere un pochino il polso della situazione. Addirittura SP500 ha mancato il massimo storico per 2 punti, ha fatto un massimo di 5,765 contro i 5,767 della scorsa settimana, quindi è praticamente in area massimi storici. Vedremo quindi come si comporterà nella prossima ottava. Se smetteranno di uscire tutte queste news negative è molto probabile che a questo punto SP500 già nella prossima settimana possa fare quei 20-25 punti che gli permettano di andare a registrare un nuovo massimo storico e ad avvicinarsi ulteriormente a quella quota dei 6.000 punti che ormai parecchi broker vedono per fine anno per l'SP500. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona domenica, per qualsiasi informazione sui nostri servizi rimane valida la nostra mail info-mactrader.it, non ci resta che ricordarvi il like per questa analisi e se vi è piaciuta naturalmente e alla prossima settimana.